mi chiedo delle volte come una persona che investe nelle criptovalute possa andare a crearsi un suo portafoglio diversificato nel senso sono tutti asset molto volatili e hanno dei drawdown che io definirei quasi pazzeschi a mio parere o almeno per me da infarto però comunque presumo che ci sia una certa logica soprattutto per chi investe diciamo così a lungo termine su come viene creato il portafoglio di come viene gestito di portafoglio di sole cripto visto che io non sono espertissimo ma ho un po di questi asset fra i miei asset finanziari volevo un po dire la mia su un paio di portafogli che potrebbero essere intravisti per il lungo termine se poi hai pazienza ad aspettare la fine del video ti dico anche come la mia personale allocazione di cripto nel mio portafoglio cripto che è completamente diversa dalle due che ti vado a proporre ora ma si sa io non ci sto tanto con la testa comunque ne parliamo subito dopo la sigla ciao a tutti bentornati sul canale io sono pasquale questo è io risparmio il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto le cripto sono in un periodo non proprio felice in questo inizio del 2022 perlomeno rispetto a quello che è successo a meno a metà dello scorso anno fino alla fine del 2021 dove sembrava fossero lanciate come il vultus 5 nel cielo se non sai cosa sia vultus 5 sei troppo giovane comunque a prescindere da questo sembra che tutto il mercato non solo quello cripto sia tornato a dei livelli che si potrebbero definire normali detto ciò per un investitore che crede nell'investimento in cripto una strategia a mio parere deve sempre esistere mi sono chiesto perciò quale potesse essere o quali potessero essere le strategie di allocazione di un portafoglio di token completamente cripto quali vanno dentro ce ne sono migliaia disponibili e ne nascono di nuove ogni giorno quasi come i funghi sicuramente non deve essere molto semplice starci dietro io appunto non ci sto dietro come sapete ho la gestione di un piccolissimo portafoglio che mi sono creato per la maggior parte anzi per più della metà con i link affiliati e i quiz e i regali di exchange e per l'altra metà con i soldi miei ho dato alla fine una forma al mio portafoglio in maniera diciamo così personale che rispie creasse il mio modo in cui io percepisco appunto questo mondo le cripto ti parlo della mia allocazione verso la fine del video per cui se non hai pazienza ti credo di averla questa volta prima però ti voglio dare delle due allocazioni che secondo me potrebbero essere interessanti e intraviste per un investitore che guarda questo mondo in un'ottica di lungo o lunghissimo periodo prima di iniziare ovviamente devo ribadire che questi non sono consigli finanziari ma delle mie semplici valutazioni e riflessioni anche perché come ben sapete non è la mia specialità io non sono molto addentrato nel mondo cripto ma sono più all'interno dell'investimento in azioni in etf e in particolare in quegli asset in quelle azioni o etf che sono da dividendo per cui fatto questo brevissimo disclaimer cominciamo subito il primo portafoglio a mio parere dove avere prima due grossi porzioni poi una parte leggermente più piccola e l'allestante molto più frammentata non sto parlando in aramaico antico ma ti spiego subito cosa intendo in questo primo portafoglio infatti andrei ad aggiungere circa il 40 per cento dell'allocazione totale al re cioè al bitcoin infatti a prescindere da quello che io dirò sia per questo che per il secondo portafoglio ma anche in tutti i video in cui parlerò di cripto ma anche in cui soprattutto in quello mio personale sono dell'idea che se venisse a mancare tra virgolette il bitcoin molto probabilmente tutto il mondo cripto quasi la maggior parte di esso io penso anche il 99 per cento andrebbe a sparire perché il bitcoin pur essendo una tecnologia vecchia rispetto al mondo delle nuove cripto i nuovi token viene percepito come un token fondamentale continua ad essere comunque quello con la più alta capitalizzazione e per cui lo si vede così una seconda porzione molto ampia del 30 per cento a mio parere lo andrea dal locale ad ethereum diciamo che definirei questi due token marito e moglie il bitcoin il re e l'ethereum la regina questo token però una tecnologia che definiamo un po migliore di quella del re è sicuramente più snella soprattutto quando andrà a passare alla sua nuova versione costa un po di più per le transazioni ma è una cosa a parte comunque continua a essere percepita secondo me come l'eterna seconda a mio parere molto più duttile e adattabile ai vari utilizzi ma io ovviamente non sono il mercato e se si vuole andare a guadagnare bisogna anche fare delle decisioni che non sono relative solo alla tecnologia coinvolta ma anche quello che potrebbe portare il valore del token in alto con queste due posizioni abbiamo già allogato il 70 per cento di questo portafoglio una terza porzione il 25 per cento io lo andrei a definire come in condivisione non una stanza singola 800 euro al mese ma neanche una doppia ma invece una quintupla e in particolare infatti io allocherei 5 token questi token sono solana cro il token di crypto.com bnb il token di binance adacardano infine polkadot sono progetti che a mio parere hanno qualcosa di speciale rispetto al rumore di fondo e possono dare lo spunto in più al portafoglio rimane un 5 per cento dal locale qui a mio parere ci si può sbizzarrire con tutte le sheet meme coin o comunque magari tutte quelle a piccola capitalizzazione che possono andare da un momento all'altro a zero ma che anche da un momento all'altro possono con un investimento di tor irrisorio dare molte soddisfazioni direi che questo tipo di allocazione potrebbe essere definita come la più conservativa la mia è fuori di testa ma te la dico per ultima invece adesso passiamo alla seconda allocazione il secondo portafoglio se la prima la definivo conservativa la seconda non è sicuramente da pazzi furiosi come la mia ma la definirei quasi innovativa in questa seconda allocazione in questo secondo portafoglio di cripto posizionerei il 20 per cento sempre al re al noto bitcoin o come lo chiama alessandro tassoni a proposito lui fa delle squisitissime analisi basate sulla statistica e in particolare sulla regressione lineare proprio sul bitcoin io per cui vi consiglio di andare a iscrivervi al suo canale che di roba ne sa parecchia comunque dicevo dopo aver messo sul btc andrei a dare una pari importanza anche alla moglie ethereum in questo modo abbiamo formato quasi la metà del portafoglio perché abbiamo allocato le due cripto a più grossa capitalizzazione circa il 40 per cento del totale di questo secondo portafoglio innovativo un successivo 40 per cento per cui una grossissima porzione l'andrei a dare alle cripto che possono essere definite a mio parere del futuro sono tantissime molte di queste sono già in quelle ad alta capitalizzazione per esempio c'è cro mana bnb cardano e solana polka dove abbiamo parlato prima la maggior parte sono escluse ethereum e bitcoin fra le prime 50 a grossa capitalizzazione non bisogna prendere tutte perché altrimenti si diversificherebbe troppo ma in base ai propri studi base alle proprie aspettative puntare su quelle nelle quali si crede di più o per le quali si pensa che sotto ci sia un progetto serio e che possa dare un servizio ecco diciamo così tramite la tecnologia sconnessa sottostante che possa poi portare il token a crescere per precisare non parlo delle shit coin o meme coin che sono presenti nei primi 50 posti perché lì ci sono solo quelle che ci arrivano per un pompaggio diciamo della rete ad esempio non mi riferisco a cose tipo shiba inu per parlarci chiaro un ulteriore 15 per cento io qui lo darei a tutte quelle che ancora non sono state notate o che non sono cresciute abbastanza ma che possono se la loro tecnologia va a prendere piede e clienti cominciano ad arrivare possono dicevo diventare importanti anch'esse queste solitamente si trovano fra il cinquantesimo e centocinquantesimo posto per termini di capitalizzazione mi riferisco ad esempio a token come gala pancake swap amp celsius eccetera ce ne sono tantissime la scelta da fare come prima menzionato non è a simpatia ma tramite magari l'analisi dei white paper alla comprensione costante del progetto e anche dei rischi di impresa che quel progetto sottostante può avere ricordo che tutte le cripte sono altamente volatili e addischiose per cui prendere le cose solo perché ha un prezzo basso o perché lo sentiamo nominare da un nostro amico o da uno youtuber non è proprio la scelta giusta infine l'ultima porzione del portafoglio innovativo potrebbe essere composto da quelle meme shit coin di cui abbiamo parlato prima qui ogni cinque minuti ne esce una andrei anche ad averne molte perché molte sono quelle che svaniscono nel nulla sono tantissime e per cui si potrebbe rimanere a bocca asciutta per fare capire in questa categoria di tokeni inutili dicevo quella che menzionavo prima che è shiba inu diciamo che non siamo tutti ricchi come mr billion come il famoso massimo cirignotta che saluta affettuosamente anzi per cui pochi che non lo conoscessero mr billion offre sempre contenuti di qualità per cui se io fossi in voi un giro sul suo canale una bella iscrizione è un clic sulla campanella delle notifiche io la farei passiamo alla modalità pazzo furioso cioè la mia prima di passare al mio portafoglio voglio semplicemente ribadire che io e lo ribadisco sempre in ogni video non sono un investitore da cripto ma vedo questo asset più come una forma speculativa i miei investimenti io li faccio in dividendi non in cripto il mondo dei token lo vedo come una serie di biglietti della lotteria e non come un qualcosa da ritenere per il futuro non perché sia effettivamente così perché magari mi sbaglio ma perché la mia strategia di investimento è un'altra è basata sui dividendi basate sulle aziende su quelle che possono portarmi un dividendo il capital gain io ho allocato il 15 per cento al bitcoin e poi un altro 15 per cento a etidium per cui circa il 30 per cento è andato a finire nei due token che sono la più alta capitalizzazione sono diciamo i cavalli trainanti di questo portafoglio quelli meno volatili e quelli che per cui si può dire si fa da stabilizzare un po il portafoglio premolestando che in questo mondo scilla tutto sembra un terremoto un ulteriore 30 per cento io l'ho allocata da alcuni token che penso possono essere allo stesso tempo a metà strada fra lo speculativo ma dall'altra metà anche essere dei progetti interessanti che potrebbero avere un futuro in particolare ho suddiviso la mia allocazione fra mana decentralized mana quella che occupa in questo momento la maggiore porzione di questo pezzo di portafoglio poi c'è binance coin crypto.com basic attention token bat xio x y o stellar scale the graph ed amp tutto questo in proporzioni variabili in base a quello che a mio parere potrebbero essere le chance che uno di questi token possa effettivamente fare bene in futuro ho fatto il 60 per cento ed i rimanenti 40 bene più di un terzo del mio portafoglio cripto questo 40 per cento sono meme coin shit coin sulle quali ho messo delle cifre irdisorie ma quando parlo di risori intendo che sono state alcune in cui ho messo anche solo 5 euro ma che hanno avuto in alcuni casi delle performance schifosissime ma in altri casi sono andate su come la luna le due posizioni maggiori sono non perché ci abbia messo tantissimi soldi ma perché hanno avuto un periodo di tempo o diciamo così io ho avuto fortuna di mettere soldi in un periodo di tempo in cui due spiccioli sono cresciuti prima che ci fosse questo calo attuale del mercato fra queste c'è shiba inu e la posizione più grande in questo questa parte di portafoglio la occupa doge l'on mars questo token che ho preso veramente veramente vuol dire con lo spirito del gratte vinci sisal è diventato il mio cavaliere nero alla gg proietti anche qui se non sapete di cosa parlo chi è il cavaliere bianco contro il cavaliere nero siete troppo giovani comunque è quello che mi ha performato meglio in tutto il portafoglio a prescindere da ciò ho tante shit coin o meme coin in questo 40 per cento ma capite bene che è un crogiolo di pura follia e paura sangue e arena ovviamente queste sono tre soluzioni portate da chi vede questo mondo come speculativo e non come investimento non tutti la penseranno come me anzi gli amanti del mondo cripto mi odieranno a manetta con i pollici in giù ma volevo comunque dire una mia idea su questi portafogli se sei una persona che ne capisce di criptovalute diciamo una persona alla andrea landriani se vogliamo fare un nome molto esperto fammi sapere cosa ne pensi e come hai invece impostato il tuo portafoglio di cripto e con che allocazione sei conservativo innovativo pazzo furioso oppure hai creato una tua allocazione diversa da queste tre fammelo sapere nei commenti qui sotto se il video ti è piaciuto ovviamente ti chiedo come sempre di farmelo sapere con un bel pollice in su domani andiamo a parlare di come si è concluso invece il mio primo mese di 5 video a settimana e andiamo a capire dalle statistiche se ne sia veramente valsa la pena per cui se sei nuovo sul canale e vuoi farti beatamente i fatti miei iscriviti clicca la campanella delle notifiche per non perderti nel suo video successivo ogni mia nuova pubblicazione lascia un pollice in su lascia un commento qui sotto lasciami mille euro fai quello che vuoi insomma vabbè anche per oggi è tutto ci vediamo domani ciao iscriviti al canale iscriviti al canale